Gli addi di Piovì, Ghilana, Scoponi e Di Stefano non saranno i soli. Il Messina si appresta a cambiare volto con il mercato di gennaio ormai alle porte. Se saranno semplici i correttivi o una vera e propria rivoluzione lo scopriremo nelle prossime settimane, ma la certezza è che altri faranno le valigie dopo l'ufficialità della decisione consensuale annunciata con i quattro giocatori che non facevano più parte del progetto. Piovì e Ghilana erano scesi in campo in tre occasioni, Scoponi in due, catapultati in squadra al termine di un lunghissimo iter burocratico per i rispettivi tesseramenti e poi finiti presto nel dimenticatoio. Chi ha trascorso interamente ai box questa prima metà di stagione è Di Stefano che sembrava impredigato di lasciare Messina già in estate. La rosa si è così ridotta a 23 elementi, sebbene il terzo portiere Mangini e il centrocampista Privitera non siano ancora mai scesi in campo. La riapertura delle liste che consentirà di fare operazioni tra i professionisti dal 3 gennaio 2014 fino al 31 dello stesso mese e la chiave di volta per cercare di rimettersi in carreggiata rimediando agli errori commessi in estate. La gara con l'ischia del 5 gennaio è il primo atto di un girone di ritorno nel quale occorrerà decisamente cambiare marcia per cercare di agguantare uno degli otto posti che garantiscono l'accesso alla Lega Pro Unica ed evitare l'appendice di un pericoloso play-out che riguarda le classificate dal nono al dodicesimo posto. Il Messina affronterà in trasferto, oltre alla compagine di Campilongo, anche Foggia, Cosenza e Teramo, tutte le big insomma ad eccezione della Casertana, ma è soprattutto al San Filippo che gli uomini di Grassadonia dovranno cambiare registro dopo i tanti punti persi per strada all'andata. La classifica piange, dal nuovo anno il Messina dovrà necessariamente cominciare a correre.